Più di 300.000 persone hanno preso oggi parte alla manifestazione contro il TTIP e il CETA. Solo Berlino ha raggiunto quota 70.000. I manifestanti temono la perdita di sovranità da parte degli Stati. La sovranità da i nostri governi, da i nostri governi, da i nostri corporati. So, per esempio, per le risposte ambientali e economiche, per me, per esempio, come lavoro, non mi piace l'idea di americani standardi. C'è troppo pieno di persone che pagano taxe. E questo è assolutamente nonsensi. E questo potrebbe essere un paese per la nostra sovranità e la democrazia, perché le lezze sono ora insieme, diciamo, e le compagnie potrebbero essere capito a nostri governi, magari in 20 anni.